e quando prendi la patrici? dai Michalut! che cazzo vado? qua non è detto eh bene prendi la trinata prendi la trinata proviamo a parlare di qua non è finita la storia no facciamo la cura dai fai la cura, fai gli uomini veri tanto arrivo lì mi fermo eh no dai adesso non chiamo cartanella sono spettato con il vento qui dal suo stato dai dai fai 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tento Pietro. Adesso la vedi eh? Non la vedi? Non la vedi? Non la vedi dendi. Non la vedi? 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 Adesso c'è meritato la penna d'altino Questa con la prossima vieni su Io sentirei di qua Ammazza gli amici Oh ma i picnic oggi pomeriggio I picnic si fanno oggi pomeriggio Non adesso I picnic per mangiare C'era sempre di qua E' certo che ti tira dentro Questa è seconda, sono troppo veloce E' certo che non si fanno oggi E' certo che non si fanno oggi la penna del corvo non ha funzionato non ha funzionato